oh ma tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo qui oggi con la seconda puntata di identikit per parlare del primo vero acquisto dell'inter targata 2017 2018 sto parlando del portierone ex torino daniele padelli allora il portierone nasce a lecco nel 1985 la sua carriera inizia nel 2004 con le maglie di sampdoria e crotone prima di trasferirsi a bari e poi a tutti dove conoscerà indominato un pochino andanovic e ne sarà suo vice viene anche preso in prestito dal liverpool che lo farà giocare una sola partita da titolare nel campionato inglese il 29 maggio del 2013 causa squalifica di cilè per calcio scommesse verrà acquistata a titolo definitivo è stato un portiere che comunque con il torino è arrivati in europa league e poi dall'anno scorso dalla scorsa estate è stato messo in panchina perché i granata hanno comprato a giocare che a mio modo di vedere non è poi tutto questo gran che ha solo il nome padelli giocherà anche in nazionale e da ieri ragazzi è diventato il vice andanovic ma all'inter devo dire che sono abbastanza contento perché è un portiere discreto ha giocato sempre bene con noi per per quello che ho visto e per di più padelli prenderà il posto di carrizzo che ha dato l'addio all'inter come tutti sappiamo quindi io gli faccio un grande in bocca al lupo mi raccomando daniele fatti valere so che è difficile perché davanti è comunque andanovic però dai e tutta signori se il video vi è piaciuto lasciato un like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata